allora ventarelli siamo in ricognizione della prova speciale che praticamente è proprio qui una bella linea molto tortuosa lenta molto lenta va bene per noi perché non è più piano di così non riusciamo andare adesso metto il casco e partiamo vediamo quello che succede ok si potrà prendere mai preso in giro che poi la moto è potente quindi vediamo un po e va bene giochiamo giochiamo vai vai che ti diverti l'ho ingrassata un po l'ho ingrassata un po la catena no 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.